A Bagheria un arresto dei carabinieri per spaccio di stupefacenti. Si tratta di un uomo di termini merese, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione spaccio di crack. I militari dell'arma durante un servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti hanno notato due persone a Bagheria in viaggiotto che con fare sospetto hanno occultato due sacchetti trasparenti nella spazzatura presente sul ciglio stradale per poi restare in prossimità. Durante il servizio di osservazione i carabinieri hanno constatato che i due uomini, in più occasioni e in modo alternato, si sarebbero recati nuovamente tra i rifiuti, prelevando dai sacchetti dei piccoli involucri che man mano hanno ceduto a persone in transito in cambio di denaro. Nel corso dell'intervento i militari hanno arrestato uno dei due uomini, recuperando i due sacchetti nascosti all'interno dei quali erano contenuti a 164 dosi di crack. L'altro, il fratello, 34enne precedentemente generalizzato, è stato denunciato in stato di libertà poiché non presente sul posto al momento dell'intervento dei carabinieri. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale per gli accertamenti di rito. Il giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Termini Merese ha convalidato l'arresto del 31enne disponendo nei suoi confronti gli arresti domiciliari.